Io ho scelto di giocare a basket perché alcuni miei amici mi hanno consigliato che era un bellissimo sport e ora sto scoprendo che avevano proprio ragione a dirmi che era un bello sport. All'inizio perché c'era un mio amico, volevo giocarci con lui, poi mi piaceva basket e ho continuato. Perché mi piaceva, mio babbo lo fa da vent'anni. Perché è uno sport che richiede grande sacrificio, tanta corsa e è uno sport che a me appassiona perché gode di grande spettacolo. Gioco da 3-4 anni. Da 4 anni. Un anno e mezzo. Tre anni. Da un anno. Sono mille anni. La regola fondamentale per giocare è di saper palleggiare. Non si deve prendere mai il giocatore per la maglia oppure tenere la palla in mano quando palleggi. Tipo palleggi, tieni la palla in mano e poi ricominci a palleggiare. Naturalmente mi piace fare canestro e tirare, tirare il pallone. Anche se recuperare un pallone quando sei in difesa è molto emozionante. Fare canestro. Il gioco di squadra che è un gioco non singolo, che bisogna aiutarci tutti tra noi.